Avvocato, allora partiamo dalla novità. Nuovo studio, quali sono gli obiettivi di BLV? Prima di tutto vorrei proemettere che abbiamo passato questi sei anni con Guidinzaghi con ottime soddisfazioni, però poi negli ultimi mesi siamo un po' accorti che avevamo un po' di diverse visioni sulle strategie dello studio, sulle prospettive di sviluppo e anche sulle modalità di far crescere i professionisti all'interno dello studio, per cui serenamente con un ottimo rapporto abbiamo deciso di far nascere due nuove realtà, lo studio Inzaghi e per me è lo studio che ha preso una denominazione BLV, Belvedere & Panthers, BLV perché ormai negli studi legali le sigle sono correnti, GOP, BE, LCA e così via, no? Benissimo. Ecco, quali sono gli obiettivi del nostro studio? Innanzitutto che ci sia molta armonia tra tutti i professionisti, che ci sia un grosso senso di squadra, faccio un po' un esempio calcistico, vuol dire possiamo avere in squadra degli ottimi calciatori, però bisogna che ci sia collaborazione tra di loro, tante volte un assist è meglio di un gol se poi il gol fa un altro, ecco, e questo vuol dire squadra che vince e se vince la squadra vincono anche singoli componenti. Stiamo facendo ulteriori innovazioni dal punto di vista tecnologico, che vuol dire database più completi possibile, possibilità di lavorare da remoto, possibilità di fare riunioni streaming, però questo non basta. Quello che è stato il nostro mantra da tanti anni, da qualche decennio e che ci ha dato ragione è la qualità. Su questo non vogliamo assolutamente transigere e vorrei aggiungere una cosa, perché spesso ci definiscono uno studio boutique e questa è una definizione che a me non piace, non credo che corrisponde a quello che facciamo noi, perché le pratiche che ci affidano, le varie iniziative sono una diversa dall'altra, alcune possono assomigliarsi, sembra proprio uguali, però hanno delle diversità tra di loro che bisogna andare a individuare, per cui più che uno studio boutique noi abbiamo un approccio sartoriale quando ci viene affidato un carico, anche cose che sembrano uguali e non si possono industrializzare. Già guardarle e confezionarle su misura, proprio per dare incontro a quello che è l'obiettivo del cliente e noi cerchiamo di vedere giuridicamente con quali strumenti, in maniera legittima, lecita, può arrivare a perseguire il proprio obiettivo. Se pensiamo che non sia raggiungibile rispetto alle norme applicabili glielo diciamo subito, quindi in maniera molto pragmatica, però poi ci facciamo carico noi invece di raggiungere se gli strumenti legittimi, giuridici ci sono. Abbiamo detto quindi, abbiamo presentato le principali caratteristiche dello studio, possiamo soffermarci sulle specializzazioni, sulle pratiche trattate? Noi da quando siamo nati nel 1975 abbiamo fatto, ci occupiamo solo di real estate, però di real estate a tutto campo, quasi a tutto campo. Non ci occupiamo degli aspetti fiscali che possono essere relativi a operazioni di real estate perché riteniamo che per questo ci voglia una specializzazione particolare che noi non abbiamo e non vogliamo avere, anche perché le norme fiscali cambiano una volta alla settimana, ci vogliono degli studi specializzati in questo. cliente che ci dà l'incarico o ha già il suo fiscalista o se non è così noi abbiamo degli studi molto conosciuti, fiscalisti, commercialisti con cui collaboriamo per portare avanti delle iniziative. Per il resto nel real estate lo facciamo tutto, siamo forse più visibili per quanto riguarda l'urbanistica e l'edilizia, anche per tutte le operazioni che abbiamo seguito nel tempo, la trasformazione della città di cui in parte siamo stati anche motore e di cui la stampa ha dato ampio risalto, ma seguiamo tutti gli aspetti connessi a real estate e in particolare per quanto riguarda la contrattualistica immobiliare. Diciamo che l'incarico che a noi piace di più è quando ci viene affidato dall'inizio di quando si è imposta un'operazione immobiliare. Faccio un esempio, un cliente individua un asset che potrebbe acquisire, può essere un'area nuda, un'area con un fabbricato. Prima battuta ci dà un incarico per fare una due diligence per verificare se si tratta di un fabbricato che quello che esiste è legittimo o su tutto, che non ci siano abusi pregressi. Poi nella due diligence noi verifichiamo che cosa si può edificare, con quali destinazioni d'uso, quali volumetrie, se ci sono premialità volumetriche a seconda dello sviluppo che si intende fare e quali sono le procedure per ottenere i titoli di inizio. Se non ci sono criticità, il cliente ovviamente tratta gli aspetti commerciali con il potenziale venditore, noi invece lo seguiamo per quanto riguarda la negoziazione, la stipulazione dei contratti preliminari quando ci sono, del rogito di compravendita dell'asset, del sign letter eventualmente allegato. Diventa il cliente proprietario, quindi noi ci occupiamo di fargli ottenere i titoli edilizi necessari per la trasformazione urbanistica. Ottenuti i titoli edilizi o in parallelo lo seguiamo per quanto riguarda la selezione delle imprese di costruzione a cui affidare l'appalto. Su questo poi se ho spazio vorrei dire qualcosa su alcuni metodi innovativi di contratti di appalto. Affidato l'appalto lo seguiamo appunto per la stipula anche nella fase realizzativa fino al collaudo, perché poi nella fase realizzativa spesso possono essere problemi di varianti essenziali, di varianti volontari e così via, fino al collaudo e poi se l'operatore non ha realizzato la trasformazione immobile per un uso proprio, lo seguiamo per locare e mettere a vendito l'immobile. Ci ha parlato delle competenze in materia di contrattualistica, ci può raccontare qual è il nuovo approccio alla contrattualistica degli appalti privati? Allora nel Real Estate noi ci siamo occupati da sempre non solo degli aspetti amministrativi, urbanistico edilizi, ambientali, espropri e così via, ma anche della contrattualistica immobiliare. La contrattualistica immobiliare può presentarsi in più aspetti, uno quello che citavo prima quando ci occupiamo dell'acquisto di un immobile, della sua vendita piuttosto che dei contratti di locazione per la messa a reddito, però c'è un altro settore di contrattualistica che sta diventando sempre più importante, che noi abbiamo sempre curato, ma che negli ultimi tempi è stato foriero di nuovi incarichi che si stanno implementando e mi riferisco ai contratti di appalto. Fino al 2019, quindi antepandemia, i contratti di appalto venivano stipulati su moduli ormai standard, si andava da buffetti, si prendeva il modulo, poi si cambiava per mettere i numeri, nomi, i tempi, le quantità e così via. Poi nel 2020, primo all'inizio, febbraio, marzo, con la pandemia sono stati dei lockdown molto lunghi, molto rigorosi in Italia più che all'estero, per cui c'è stato un rallentamento fortissimo dell'attività del settore della ricostruzione e quindi la domanda di materiali di costruzione è scesa in maniera quasi verticale. Cosa è successo? Che tante imprese, ma nei settori più vari, dall'estrativo e così via, tante imprese hanno chiuso perché non avevano domanda, hanno chiuso. Altre imprese invece hanno resistito, però avendo sempre meno domanda, si sono organizzate per produrre meno, o con riduzione di personale o chiudendo qualche impianto poco produttivo. Ricordiamoci che nel 2020 c'è stato un calo del PIB del 9%, cosa che non si era mai vista nella storia dell'economia italiana. Poi nel 2021 sono finiti il lockdown, c'è stata una ripresa di attività, quindi una ripresa di domanda di materiali di costruzione all'offerta per i motivi che dicevo prima, di imprese chiuse, imprese che si erano dimensionate, era molto minore, non era in grado di rispondere a questa domanda. I prezzi e materiali di costruzione sono saliti tantissimi, è salito anche il PIB quell'anno di oltre il 6,5% nel 2021. Noi abbiamo avuto un incarico dall'Associazione dei Costruttori nell'estate del 2021, quindi ha finito da poco la pandemia forte, perché i loro iscritti, le loro imprese hanno fatto a parte antepandemie e quei prezzi non ci stavano più, non erano in grado di portarli a compimento. Quando ci hanno chiamato il ferro era salito quasi dell'80%, ma i palazzi sono pieni di ferro e di acciai. Benissimo. Poi qualche mese dopo è scoppiata anche la guerra in Ucraina, quindi anche le fonti energetiche sono salite di prezzo. Conclusione, quei contratti che sono fatti per decenni, teniamo presente che nell'industria delle costruzioni, statisticamente quella che negli ultimi anni si è rinnovata meno, dietro di noi c'era solo l'agricoltura, ma credo che ultimamente ci abbia anche superato dai dati che vedono. Quindi quella tipologia di contratti, prezzo chiuso, chiave in mano, penali per il ritardo e così via, non potevano andare avanti, cioè non si riusciva poi a concludere la fase realizzativa. Allora noi abbiamo proposto e stiamo avendo ragione, stanno dando ragione ai nostri clienti, anche i committenti soprattutto, delle tipologie contrattuali che invece all'estero sono molto diffuse, soprattutto nel mondo anglosassone, che anziché l'appalto prezzo chiuso chiave in mano, sono appalti con due sistemi diversi. Uno è l'appalto open book, con il sistema del cost plus fee, che vuol dire che è legato al costo della realizzazione dell'opera, che chiaramente deve essere trasparente e documentato, più una fee per il general contractor che realizza l'opera. Seconda cosa, che forse è ancora più importante, ma sicuramente più innovativa, cosa che stiamo già usando, molti clienti ci stanno vando retta, lo stanno facendo, è il sistema del project partnering, che può essere unito a quello dell'open book, può essere autonomo. Cosa vuol dire il project partnering? Vuol dire che sovente il committente fa predisporre il progetto esecutivo dal suo architettivo, dal progettista. Poi chiama l'impresa che le mette in gara e a quella a cui affida l'incarico l'appalto dice guarda, firmami che hai visto il progetto esecutivo, che ti va bene e che ne va fare storia. E pur di prendere l'appalto veniva fatta questa dichiarazione dall'appaltatore. Però il progetto esecutivo fatto dall'architetto, magari un bravissimo archistaro quello che è, non sempre era realizzabile così come veniva predisposto. Quindi noi cosa facciamo adesso? Quando invitiamo delle imprese per partecipare dalla gara per darlo a palto, le invitiamo anche a fare un confronto con i loro tecnici interni o che possono prendere all'esterno sul progetto esecutivo, che le imprese che ci diano suggerimenti, indicazioni, soluzioni che magari con loro tecnologie ci consentono di fare risparmio di tempo e anche di denaro. Per cui condividiamo il progetto esecutivo confrontandoci con più imprese, sentendo i suggerimenti di tutti, quando poi diamo l'appalto a una di queste imprese c'è un progetto esecutivo condiviso, quindi non ci sono più problemi nella fase realizzativa, che non solo hanno visto, ma ci hanno anche lavorato, hanno magari studiato soluzioni tecnologiche migliorative rispetto a quello che gli abbiamo dato. Però alle altre imprese a cui non viene affidato l'incarico, con accordo preventivo anche per strunarle, ammettere tutta la loro esperienza a questo confronto, riconosciamo un indennizzo non in conto già predeterminato prima. Questo ci consente, magari si mettiamo un po' di tempo più per affidarlo in carico. Ma poi si parte con un progetto esecutivo condiviso e si risparmia i tempi nella fase attuativa.